Fino a due anni fa lavoravo al mercato con mio padre a vendere frutta e verdura. Vivo ormai da due anni a Dubai e il mio lavoro è la mia passione. Oggi sono qui e voglio raccontarvi la mia storia. Partiamo ragazzi dicendo che se non avete visto il video precedente dove vi ho raccontato la parte iniziale di questo video vi invito ad andare a vederlo. Vi lascio qui sopra il click, andate a vedere quel video lì che è la parte principale e dopo finite a vedere questo video qui così avete diciamo il senso logico di tutto il mio percorso. Partiamo da quando avevo più o meno 18 anni, ho iniziato a far le gare di strongman perché frequentavo in quel periodo una palestra dove si faceva pesistica. Pesistica quella un po' più old school, bilancieri, manubri, squat pesante, slancio, sollevamento pesi olimpionico, tutta quella roba là. Io mi sono molto appassionato alla palestra però dal punto di vista della forza perché in palestra avevo legato molto con alcuni ragazzi che facevano le gare, ragazzi più grandi di me. Quindi a 18 anni mi sono unito a loro e ho iniziato a far le gare prima di powerlifting e poi dopo gare di strongman. Lo strongman che cos'è? È quello sport, quella disciplina che si vede spesso in tv e anche al Guinness dei Primati dove ci sono questi uomini enormi che spostano oggetti. Per esempio c'è quello che trascina il camion, c'è quello che lancia le lavatrici, c'è quello che solleva delle pietre. Io facevo quello sport lì e l'ho fatto per 8 anni. Ho iniziato a 18 anni e ho smesso 8 anni più tardi. Questo sport mi ha portato inizialmente a superare a livello mentale alcuni schemi che avevo nella testa perché io da piccolino sono sempre stato magro, esile. E avvicinandomi a questo sport che la prima gara l'ho fatta che pesavo 75 kg e io sono alto 1,85 m, mi allenavo comunque già da 4 anni perché ho iniziato a fare palestra a 14-15 anni. Lì ne avevo 18-19 più o meno, quindi era già 4 anni che facevo palestra. Non ero molto grosso perché comunque non avevo un'alimentazione corretta. Però io lì ho deciso di mettermi alla prova, di partecipare a queste gare e spinto anche dagli amici miei che loro già partecipavano. E nel giro di qualche mese ho partecipato alla mia prima gara di strongman e ho fatto ultimo posto. Come molti di voi penseranno, cavolo hai fatto la tua prima competizione e sei arrivato ultimo ti sarai depresso, ti sarà presa male. Invece no ragazzi, io sono arrivato ultimo nella mia prima competizione di strongman e nella mia testa terminata la gara e avevo ancora più voglia di allenarmi. Perché? Perché facendo questa competizione contro degli atleti più forti di me, più allenati di me, ho avuto modo a fine gara, quando sono arrivato ultimo, di parlare con loro, di scambiare delle opinioni con loro e capire quali erano i miei punti deboli e quelli che dovevo migliorare. Quindi una volta terminata la gara, io subito, due giorni dopo, sono tornato in palestra e ho iniziato ad allenarmi in una maniera diversa, cercando di colmare tutti i miei punti deboli. Questa cosa mi ha portato dopo un mese a partecipare ad un'altra gara e anche lì ho fatto comunque ultimo posto. In parole povere, il primo anno ho fatto 4-5 gare, tutte a distanza di uno, due mesi tra di loro, e ho sempre fatto ultimo posto. Questa cosa non mi ha per niente scoraggiato. Perché? Perché nonostante l'ultimo posto che io facevo ad ogni gara, mi accorgevo che gara dopo gara comunque la mia prestazione, i miei chili sul bilanciere, la mia forza, comunque piano piano aumentava. Quindi dentro di me dicevo che io sono molto giovane, ho appena 18 anni e mezzo, se mi impegno magari tra due anni, se continuo ad aumentare piano piano la mia forza così, potrei raggiungere un buon risultato. Questa cosa mi ha portato l'anno successivo ad arrivare terzo ultimo, quarto ultimo, in tutte le gare. L'anno successivo ancora ho iniziato a fare quarto, quinto posto. L'anno successivo ancora, nel 2016, ho iniziato a fare i primi podi. Ho iniziato a vincere anche delle competizioni durante quell'anno lì, facevo primo, secondo, terzo posto, ho fatto più volte il primo posto. Questo mi ha permesso di partecipare alla finale del campionato. La finale del campionato è una gara dove quelli che hanno un punteggio più alto si sfidano e io nel 2016 ho vinto il campionato italiano. Questa cosa mi ha permesso nel 2016 di partecipare, dato che ero il campione italiano, a numerose gare all'estero. Quindi nello stesso anno ho partecipato all'Arnold Classic a Barcellona, agli europei a Birmingham, a un'altra gara a Birmingham che era all'interno di una fiera che si chiama Body Power. E lì piano piano ho iniziato a viaggiare, tanto è vero che poi mi sono qualificato anche per i mondiali, sempre nel 2016, e sono andato a svolgerli negli Stati Uniti. Negli Stati Uniti sono andato da solo, perché quel viaggio lì mi ero messo da parte dei soldini, ho speso 2000 euro di aereo e io comunque in quel periodo lì lavoravo al mercato come la mattina, il pomeriggio lavoravo in palestra come istruttore di sala pesi a 5 euro l'ora e a scappatempo comunque mi allenavo. Mi ero messo a parte dei soldini e questi soldini li ho spesi per il volo che mi ha permesso di andare a fare i mondiali negli Stati Uniti. I mondiali negli Stati Uniti non sono andati come volevo, però l'anno dopo ho vinto nuovamente il campionato italiano e mi sono comunque riqualificato per gli europei. Diciamo che con questo sport mi sono tolto delle piccole soddisfazioni personali, tanto è vero che in quel periodo lì ho avuto anche uno sponsor, che era un'azienda di macchinari, che dato che ho vinto per due anni il campionato italiano di Strongman, mi aveva dato in omaggio due o tre macchinari, attrezzi. Power rack mi aveva dato per fare lo squat, bilanceri, dischi. Comunque è un'attrezzatura molto valida per allenarmi. In quel periodo lì successivamente ho continuato a lavorare con mio padre al mercato la mattina, perché quella diciamo era la mia fonte di guadagno principale, e il pomeriggio ho continuato a lavorare in palestra come istruttore. Ho lavorato in numerose palestre. Questa cosa mi ha portato ad un certo punto all'interno di una palestra in cui lavoravo a creare un mio corso. Avevo allestito una sala dove avevo messo le attrezzature che avevo vinto durante le gare, avevo investito un pochino dei miei soldi per comprarne altre, e lì all'interno di questa palestra, all'interno di questa mia sala, andavo comunque ad eseguire un corso dove allenavo un gruppo di ragazzi dove facevo una sorta di power building. Quindi facevo un misto di power lifting e body building, dove andavo ad allenare questi ragazzi quasi quotidianamente, in una certa fascia oraria, e lì diciamo ho iniziato a crearmi una mia clientela affezionata. Questa cosa mi ha spinto a livello mentale a voler raggiungere ancora di più uno dei miei obiettivi, uno dei miei sogni, che è sempre stato quello di aprire una mia palestra. Nello stesso periodo un mio carissimo amico, un mio vecchio Jim Bro, con cui mi allenavo quando avevo 15-16 anni in palestra, anche lui in parallelo stava lavorando in un'altra palestra, e anche lui si era creato un piccolo gruppo di ragazzi tutti affezionati a lui. Io la mattina lavoravo al mercato e il pomeriggio lavoravo in palestra. Questo mio amico lavorava la mattina in palestra e la sera andava a lavorare come barman all'interno di un bowling. Parlando con lui ci siamo messi d'accordo per cercare un luogo per aprire la nostra palestra. Dato che lui lavorava all'interno di questo bowling, all'interno del bowling c'era una sala enorme, che prima era una sala da ballo che era stata svuotata, allora abbiamo deciso, parlando con i proprietari del bowling, di prendere questa sala dove io ho portato tutte le mie attrezzature, dove io e lui abbiamo fatto un investimento per comprare delle nuove attrezzature, e lì nel 2018 abbiamo aperto la nostra palestra. Abbiamo aperto la nostra palestra che non era una vera e propria palestra fitness con i macchinari, ma era un misto tra una sala pesi e una palestra da crossfit, dove noi principalmente si insegnava un misto, un misto tra powerlifting, strongman, powerbuilding, funzionale. A mano a mano diciamo si è creata questa palestra, ci abbiamo lavorato molto, perché questa palestra l'abbiamo creata da zero, era una stanza vuota, una bella sala vuota, e piano piano dopo tutta un'estate di lavoro, che io comunque continuavo a lavorare al mercato con mio padre, e il pomeriggio andavo a lavorare per costruire questa palestra, per allestirla, per pitturarla, per migliorarla. Nello stesso tempo il mio amico la sera faceva il barman, la mattina seguiva alcuni ragazzi che allenava, il pomeriggio veniva con me e piano piano abbiamo tirato su questa palestra. A settembre 2018 l'abbiamo aperta e diciamo da lì abbiamo iniziato questa nostra avventura. Io in contemporanea ho continuato a lavorare la mattina al mercato con mio padre, il pomeriggio in palestra, e il mio amico lo stesso, la mattina in palestra e la sera come barman. Questa situazione è andata avanti per quanto riguarda me per due anni. Una volta che ho conosciuto Irene, Irene comunque è una ragazza molto ambiziosa come me, piena di idee, progetti eccetera, subito nei primi mesi quando abbiamo iniziato comunque a frequentarci, abbiamo capito che entrambi avevamo comunque l'esigenza di andare a vivere all'estero. Tutti e due abbiamo sempre desiderato trasferirsi fuori dall'Italia per fare un'esperienza, per conoscere diciamo culture diverse dalle nostre. E io comunque ero sempre stato spinto ad andare a vivere fuori dall'Italia perché? Perché io sono sempre stato un appassionato di fitness, di palestra e volevo fare di questo il mio lavoro. E purtroppo in Italia se fai l'istruttore di sala pesi si guadagna poco, si guadagna 5-6 euro l'ora. Nelle mie zone dove vivo io gli amanti del fitness sono pochi e coloro che si dedicano a fare sedute di personal dove comunque si può guadagnare un pochino di più, quel genere di clientela lì non c'è. Quindi per forza se io volevo guadagnare attraverso questo mondo avevo due opzioni. O trasferirmi all'estero e lavorare nelle palestre che si trovano fuori dall'Italia dove le sedute di personal sono ben pagate e quindi facendo il personal riesci ad avere un bel giro di clienti e comunque a vivere di questo oppure aprire la mia palestra in Italia. Io avevo deciso di aprire la mia palestra in Italia. Poi successivamente ho conosciuto Irene e Irene mi ha dato speranza che comunque con lei potevo costruire qualcosa anche all'estero. Abbiamo deciso di andare a vivere in Australia. Perché abbiamo deciso di andare a vivere in Australia? Perché a entrambi ci piace il clima caldo e lì diciamo è un posto molto solare, a differenza magari di un'Inghilterra, di altri posti del mondo che sono sempre grigi. In più noi siamo amanti del mondo del fitness, del mondo della palestra. Il mio obiettivo era quello di andare a lavorare in una grande palestra come personal trainer. Questo era quello che volevo fare perché comunque avevo un bel bagaglio di conoscenze perché io ormai lavoravo da anni nelle palestre, avevo avuto una palestra mia. E quindi diciamo il progetto era questo. Io era inizio estate, se non sbaglio del 2019, parlo con il mio amico, il mio socio e gli dico che io comunque a settembre avrei lasciato la palestra perché in quel periodo lì ero esausto. In quel periodo lì, inizio estate 2019, stavo facendo le prime gare di menfisic. Io ho iniziato a fare le gare di menfisic nell'ambito bodybuilding perché ho avuto un'infortunio alla schiena durante le gare di strongman. Questa cosa a fine 2018 mi ha portato ad interrompere le gare di strongman. A primavera 2019 ho iniziato con le gare di menfisic e lì inizialmente mi sono piazzato bene, avevo vinto i regionali, successivamente ho fatto terzo posto agli italiani, successivamente mi ero qualificato per i mondiali in Ucraina e in quel periodo lì più o meno con Irene abbiamo deciso di andare a vivere in Australia e io ho iniziato a comunicarlo al mio socio, al mio amico della palestra. Quindi il problema era uno, che non avevamo abbastanza soldi da parte. Per andare a vivere in Australia bisogna avere in banca un portafoglio di almeno 4-5 mila euro da parte perché in caso di emergenza se c'è qualcosa l'Australia vuole che le persone che vengono da altri paesi abbiano questo portafoglio che li permette di affrontare il viaggio per tornare a casa. Se tu non hai questo budget a disposizione non ti fanno neanche entrare in Australia. Poi comunque per entrare in Australia è necessario, se non sbaglio nei primi sei mesi, lavorare nei campi. Questa è una delle leggi che c'è là, nelle famose farm. Quindi che cosa è successo? È successo che durante quell'estate lì io ho deciso di iniziare a lavorare ancora di più con mio padre per mettermi da parte dei soldi. Comunque devo portare avanti il lavoro in palestra perché quello era un impegno che avevo preso e in più io avevo pensato nella mia testa devo iniziare a fare un altro lavoro online che mi permetta di guadagnare un po' di soldi nel momento in cui sono in Australia e io sto facendo il lavoro nei campi ho bisogno di avere anche un'altra piccola entrata e quindi lì in quel periodo ho detto ok devo iniziare anche a fare il coach online. In quel periodo sia io che Irene dovevamo cercare di mettersi da parte più soldi possibili per entrare in Australia, per i motivi che vi ho appena spiegato. In più io ero consapevole che nei primi mesi in Australia dovevo lavorare nei campi e questa cosa non mi portava delle grosse entrate magari per sostenere altre spese che potevo avere eventualmente mentre ero là. Quindi ho pensato di crearmi qualche cliente online da seguire a distanza. Ho iniziato dato che avevo vinto comunque alcune gare come vi ho appena detto stavo andando a gareggiare ai mondiali in Ucraina quindi avevo un po' di pubblico che mi contattava sui social perché comunque a livello atletico avevo comunque una certa visibilità avevo qualche ragazzo che mi contattava per chiedermi dei consigli su Instagram e ho colto l'occasione per propormi come coach online. Avevo alcuni ragazzi che mi contattavano proprio chiedendomi la famosa scheda volevano essere seguiti da me e io lì ho pensato che avere qualche cliente da seguire online poteva farmi comodo nei primi mesi che io arrivavo in Australia per garantirmi qualche soldino in più per vivere anche perché io l'inglese non è che lo parlavo e quindi ho detto se io vado a vivere in Australia non saprò mezza parola d'inglese lavorerò nei campi come faccio a guadagnare qualcosa se arrivo in Australia con qualche cliente che seguo online questo potrà permettermi di campare di togliermi qualche sfizio in più a livello economico quindi in quel periodo lì che era inizio estate del 2019 la mia vita era un completo casino perché io la mattina mi svegliavo alle 6 andavo al mercato con mio padre finivo di lavorare al mercato che era alle 2, le 2 e mezzo del pomeriggio alle 3 iniziavo a lavorare in palestra finivo di lavorare in palestra alle ore 9 dalle ore 9 alle ore 10 mi allenavo tornavo a casa preparavo tutti i pasti per il giorno dopo perché io facevo solo la colazione in casa uscivo la mattina con la mia borsa frigo con tutti i pasti perché ero comunque in preparazione gara avevo delle gare da affrontare in contemporanea poi mi sono piazzato bene al mondiale in ucraina questo era a fine giugno e mi hanno detto che mi ero qualificato per il mister universo che era in messico nel mese se non sbaglio di ottobre io però avevo deciso a settembre di trasferirmi in australia e già ne avevo parlato con il mio socio in palestra che avrei lasciato la palestra lui era d'accordo ci siamo accordati su questo e lui già aveva trovato un ragazzo che poteva sostituirmi da settembre fatto sta che anche Irene non aveva soldi da parte e anche lei ha iniziato a lavorare molto di più in un ristorante e faceva la cameriera quella stagionale per tutto il periodo estivo e lei usciva di casa la mattina alle 9 alle 10 del mattino e finiva di lavorare a mezzanotte mezzanotte e mezzo la sera io dopo aver lavorato tutto il giorno e andavo a casa preparavo i pasti per il giorno dopo a mezzanotte e mezzo andavo a prendere Irene dal lavoro la vedevo 5 minuti si andava a dormire e io il giorno dopo ripartivo svegliandomi alle 6 potete capire la nostra vita in quel periodo quanto era intensa quanto era impegnativa e quanto era stressante io non ce la facevo più Irene era stressatissima perché comunque si litigava spesso si litigava spesso perché si era stanchi si era fusi mentalmente questa cosa ci ha portato quando si era lì lì a decidere il nostro viaggio che poi abbiamo deciso di partire più o meno nel mese di ottobre e novembre per l'Australia nel mese di settembre ci siamo lasciati io e Irene siamo stati quasi due mesi da soli perché? perché ci siamo lasciati perché in quel periodo lì si litigava troppo non si andava più d'accordo c'era delle cose che non andavano ma tutto questo era dato dallo stress del nostro lavoro non ci si vedeva io comunque ero sempre a dieta e molti di voi lo sapranno e quando comunque si fa le gare di bodybuilding e si mangia poco arrivano pochi zuccheri al cervello e ci si arrabbia più facilmente e quindi le discussioni erano all'ordine del giorno questa cosa ci ha portato a lasciarci e quindi io mi sono ritrovato poi nel mese di ottobre con il conto in banca abbastanza pieno perché io mi ero messo da parte quei 5.000 euro che inizio estate non avevo che erano soldi e da utilizzare per andare in Australia Irene lo stesso anche lei si era messa da parte questi soldi ma comunque entrambi si era single non ci siamo più frequentati per due mesi io all'interno di quei due mesi inizialmente avevo deciso di non gareggiare al mister universo in Messico perché comunque la mia priorità era andare a vivere in Australia con Irene ma a quel punto Irene non era più con me io mi ritrovavo questi soldi da parte e lì ho deciso di andare a fare questa gara in Messico anche lì ho speso più o meno 2.000 euro di volo ho speso anche altri soldi per alloggiare eccetera eccetera ho fatto questo sacrificio di spendere questi soldi tanto ormai la fidanzata non ce l'avevo più i soldi ce li avevo e ho detto sai che c'è? vado a fare questa gara me la son meritata mi sono qualificato e vado la casualità ha voluto che io in Messico vincessi io in Messico ho vinto il mister universo sono tornato a casa felicissimo questa cosa ha fatto sì che nel giro di un mese sono stato contattato sui social da vari ragazzi che ammiravano comunque il mio percorso la mia vittoria a questa gara che hanno deciso di farsi seguire da me online questa cosa mi ha portato piano piano questa gara ad avvicinarmi ancora di più al mio lavoro online nel giro di un mese più o meno ho riguadagnato attraverso il mio lavoro online i soldi che avevo speso per andare in Messico una buona parte questa cosa mi ha motivato tantissimo io ormai avevo detto al mio amico che avrei lasciato la palestra e io comunque la palestra tornato dalla gara in Messico ho deciso di lasciarla perché non ce la facevo più stavo facendo tre lavori facevo il mercato la mattina in palestra stavo il pomeriggio e la sera comunque rispondevo a quei primi clienti che avevo online e non ce la facevo più a gestire tutte queste cose quindi fra le tre cose ho dovuto fare il sacrificio di rinunciare al mio sogno della palestra perché fondamentalmente in quel periodo la palestra era la cosa che mi portava meno soldi quindi io in quel periodo lì ero tornato a vivere con mia mamma avevo il desiderio di andare a vivere da solo e avevo il desiderio di mettermi da parte qualche soldo in più per andare a vivere da solo quindi non riuscivo più a gestire tre lavori quindi ho deciso di mollare la palestra perché a livello economico era il lavoro che mi portava meno denaro tra questi tre una volta lasciata la palestra ero più sereno, ero più tranquillo anche mentalmente Irene si è riavvicinata a me ci siamo chiariti, abbiamo parlato e abbiamo deciso di tornare insieme abbiamo deciso di tornare insieme nel giro di qualche mese abbiamo ristrutturato una vecchia casa che avevano i miei genitori prima di divorziare che era una piccola casa che loro affittavano abbiamo ristrutturato totalmente e siamo andati a vivere lì io in quel periodo continuavo comunque a seguire sempre più persone online e comunque ad andare al mercato con mio padre in quel periodo io e mio padre si parlava molto di quello che sarebbe stato il mio futuro lavorativo tant'è vero che il lavoro online che stavo facendo non gli davo tanta importanza per me era un lavoro non...